facciamo di capire che sono fermato facciamo scendere 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 sei se non una cartina non guardo una cartina allora mi devi dare una cartina dove io proseguo dritto dove tu mi dici quando arrivi lì basta come la che si dice le cose fino alle baite mosche esatto dice ma io non lo so ma se vedi una staglia che è aperta e sai che deve arrivare le stalle mosche arrivi le stalle mosche non devi arrivare più oltre ma noi non lo sapevamo dicono come ti dicono di non salire su al rifugio amici perché comunque non si può andare su perché c'era il affarino lì all'automatico e quindi non è parlato con nessuno però qui non c'è nessun cartello questo è la solita cosa che ti dicono per togliersi il problema questo è importante Quante felds? 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 Lupo, sta al posto tuo! Non mi metti a rifare lo scopido eh! Non hai scoperto niente? È così come quando si infila sotto al letto e si infila! Smettila lupo! tanto non risolvi un cazzo questo è whatsapp smetti la lupo occhio a non far cagate e poi quello è la cosa giusta se si evitano ci sono stati dei punti dove erano vicini certo se i giorni è impegnato si consiglierano però senza romperci le palle se lo fa a fare così allora è una cosa è certo se i giorni non lasci stare i giorni non è un cazzo viene a rompere le palle aspettate Grazie. Grazie. Lavorante che aveva bisogno di integrare, allora questo non l'ho mai fatto. Forse no, visto che era in terra, insieme tutti i cruchi eccetera, si sentita brillante. Voleva fare la brillantezza dell'italiano. Nel baio usci la cazzo che lascia la mancetta, che lascia la mancetta, che lascia la mancetta, che lascia la mancetta, questo mancia, questo te mancia, e te mancia invece. Scusa, è il Tremanzo, è il territorio italiano. C'è Livano. Spazio ce n'è, non è che non ce n'è. Il fatto che non c'è spazio per andare a avvicinare. Dovrei farla in mezzo alle pronte. Sì, ma alle porte ti vede tutto. In ultima dimostrazione Il fattore è rotto? No, lo dico. Il fattore è rotto? 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 Non, 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 non. Il fattore è rotto? 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 erano i ciclamini, quelli piccolini, non quelli del ciclamonico, non solo i ciclamoni, beh ci sono i ciclamoni, invece questi sono i ciclamoni, ci sono solo i ciclamoni, si è passato qua il volore, si è andato avanti fino a un certo punto, a un certo punto è sparito da solo, come è arrivato è sparito, strana cosa, guarda come mi ha fatto a me con l'allucione, ti ho detto, l'ho messo giù mai i piedi, ma non me ne sono accorta, si vede che si è accavallato il nervo, ha fatto qualcosa, no io l'ho messo, è una roba che è nata, ma anch'io non mi sembrava di aver messo giù mai i piedi, invece a un certo punto ho fatto quel lavoro lì, mi è durato un po', un po' è smesso, cazzo c'è, allora girare dietro di qua, e allora capisci, Pirino e La Ogni, la Città, che succederanno per le parti, questa è stata fatta da un po' di ripro, la Città, il quarto della zona di popolo, la Città, ora città in Jerumé, questa è stata fatta da pulire, così le cose della 對啊, La scava, la salire, scendere un po' meno, la salire è scava. La motosega, guarda, zin, 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 c'è di 3 o 4 alberelli, di cedro, questo, è tutto cedro, alberi, tutto cedro, di qua. Sì, bravo, da strada gli esblocco. Grazie. 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 Grazie.